Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi nuovo classicamente. Finalmente vi svelo, molti di voi non ne potevano più, alcuni erano curiosissimi, qual è stata la lettura che mi ha impegnato in questi ultimi mesi. Una lettura molto lunga e ve ne parlo in un classicamente. Era da un po' che non ne giravo uno, se non sbaglio l'ultimo è stato quello su Virginia Woolf, ve lo lascio su nelle schede se siete interessati. Classicamente rubrica all'interno della quale si parla di un classico o di un autore che reputo essere classico. Molto spesso sono autori o libri dei quali sente parlare non poi tantissimo. In questo caso il libro del quale vi parlerò è un libro quasi del tutto dimenticato. Io stessa devo ammettere non lo conoscevo, sto parlando appunto, finalmente ve lo svelo, non ne potete più, di Il Mulino del Po di Bacchelli, ve lo lascio qui perché l'ho letto in ebook, quindi non possiedo la copia cartacea. Libro corposissimo, stiamo parlando di una trilogia di più di mille pagine, quindi è un qualcosa che mi ha tenuto impegnata ma ho amato veramente dal profondo del cuore, sono esaltatissima al pensiero di potervene parlare e di poter magari spronare qualcuno di voi a leggerlo. Vi dicevo, io non lo conoscevo, ahimè devo dire infatti di aver avuto questa grandissima lacuna di non conoscere Il Mulino del Po, ma a mia discolpa diciamo che è un romanzo che effettivamente è stato dimenticato, finito quasi per essere sconosciuto. In realtà è un classico della letteratura italiana che la sua sfortuna è stata sancita già dal momento in cui Bacchelli lo ha scritto. Io mi ricordavo questo cognome Bacchelli, forse voi lo conoscevate sicuramente, forse anche voi lo avete sentito un po', per la legge Bacchelli. La legge Bacchelli è quella legge secondo la quale appunto coloro che si sono contraddistinti nelle arti, nella musica, nello spettacolo e che versano in condizioni economiche disastrose, l'Italia decide di aiutarli con degli aiuti economici appunto. Questa è la legge Bacchelli in Soldoni, l'ho detto malissimo, non so come ho girato la frase, comunque questa è la legge Bacchelli e io la conoscevo ma non sapevo che prendesse il nome proprio dell'autore Bacchelli perché vi dicevo la sfortuna della sua opera è sancita già dagli inizi, già dagli albori. Bacchelli infatti finì in delle condizioni economiche gravosissime, morì in estrema povertà, tant'è vero che il comune di Milano dovette pagargli le cure nella casa di riposo in cui stava perché era totalmente al verde, diciamo così, un modo carino per dirlo. Quindi questa opera che tanto l'ha impegnato, questa opera gigantesca che per tanti versi mi ha ricordato un po' i miserabili sia per esperienza di lettura che per grandiosità e maestosità dell'opera stessa, in realtà già subito ha avuto sfortuna e non ha procurato alcun tipo di grazia e di solenità nell'autore che ovviamente è riconosciuto da tutti essere un grandissimo autore ma dal punto di vista economico non ha avuto affatto fortuna e non ha avuto fortuna nemmeno adesso, proprio perché è un romanzo che difficilmente troverete in libreria e del quale non si parla delle scuole, non viene insegnato e è quasi del tutto sconosciuto, vi dicevo. Ma a parte tutte queste sviolinate, tutte queste premesse anche un po' inutili, di cosa parla il Mulino del Po? Il Mulino del Po non è altro che un'epopea, epopea è la parola giusta, della famiglia Scacerni, di una famiglia ferrarese che di lavoro fa i mulinari, quindi parliamo di quattro generazioni dai primi dell'ottocento fino ai primi del novecento, fino a dopo la prima guerra mondiale, quindi un romanzo all'interno del quale si vive per cento anni in un'Italia molto diversa da quella che conosciamo noi oggi. Vi dicevo è interessante il fatto che si chiama il Mulino del Po perché un po' il protagonista, vero, di tutta la vicenda di questo grandissimo romanzo, di questa epopea, è il Mulino. Il Mulino è l'unica cosa che rimane lungo i cento anni della storia, così come rimane la famiglia Scacerni, famiglia Scacerni che è la famiglia appunto del proprietario del Mulino, del Molinaro. Sono quattro generazioni, molto diversi le une dalle altre, ma il perno di tutta la storia è appunto il Mulino, l'unica cosa che rimane nonostante gli anni. Ho trovato interessantissimo la scelta appunto di parlare dei mulinari che ormai non esistono più, quindi diciamo una categoria sociale, se così si può dire, che appartiene a un'epoca ormai lontana ed è anche una bellissima esaltazione di quella che era la vita mulinara e anche di quella campagnola. Oltre a questo, prima di tutto, il Mulino del Po è una bellissima saga familiare. Dove se fosse trovare degli aggettivi o comunque una parola che può in qualche modo tentare di riassumere questo romanzo che è gigantesco e che forse è quasi impossibile da riassumere è saga familiare, proprio perché parliamo di quattro generazioni che si susseguono. Quattro generazioni molto diverse perché dal 1800 alla fine della prima guerra mondiale, capite bene che le cose sono cambiate, non poco. Il romanzo inizia che ancora non esiste un'Italia e termina quando l'Italia ormai è finita in guerra, la guerra è finita e ha partecipato a questa guerra. Quindi vi dicevo, è bellissimo vedere come tutti questi personaggi che sono estremamente sfaccettati, personaggi a tutto fondo, personaggi del calibro di Coniglio Mannaro, che è un personaggio che mi è rimasto veramente nel cuore, che ha questo dominio così strambo, così bislacco, sono personaggi che ci accompagnano e che vivono nelle pagine del Mulino del Po. E noi non sauriamo soltanto la semplice trama e la loro vita, ma anche e soprattutto le vicende storiche che fanno da sfondo alla Ferrara, ma in realtà all'Italia, quindi vi ho detto 100 anni, 100 anni di grande cambiamento. Quindi c'è questo duplice piano, il piano della vicenda, diciamo, della trama dei personaggi stessi, della loro vita, come vivevano i mulinari, quali erano le differenze sociali fra i mulinari, i cittadini, i contadini. Quindi diciamo i mulinari quasi come una categoria sociale proprio a parte, molto peculiare come cosa. E l'altro livello narrativo riguarda la storia. Vi dicevo che mi ha ricordato tantissimo i Miserabili di Victoria Hugo, proprio per questo duplice piano narrativo che si intreccia, come giusto che sia, ma certe volte si divide completamente. Ci sono dei capitoli che sono interamente dedicati alla storia, alla politica, all'economia dell'Italia e interi capitoli che sono dedicati solo ed esclusivamente alla storia invece della famiglia. Ovviamente poi le due cose si andranno ad intrecciare più e più volte. Quindi l'ho ritrovato anche essere un bellissimo ripasso di storia italiana e perché vi dico più volte Italia? Perché l'Italia diventa quasi un personaggio del mulino del Po. Quando inizia la storia l'Italia ancora è qualcosa di molto vago, anzi direi di sconosciuto, qualcosa che non esiste e la vediamo formarsi. Vediamo anche come poi la nascita dell'Italia che modifica i comportamenti, le azioni e il modo di vivere dei mulinari, della famiglia Scacerni. È veramente anche questo romanzo una sorta di inno nazionale, è molto patriottico nel suo voler parlare dell'Italia, ma non ce ne parla ovviamente soltanto dal punto di vista positivo, perché l'Italia dell'Ottocento è tutto tranne che è unita, è tutto tranne che è positiva, è tutto tranne che è bella e rigogliosa. Un'altra cosa molto importante del mulino del Po è la parola a chi viene data. Chi viene data la parola? Ai mulinari, ai vinti molto spesso. La famiglia Scacerni è una famiglia di disgraziati, diciamoci la verità, sono poveri, sono i veri mulinari, coloro anche che in qualche modo hanno creato l'Italia, e assolutamente persone analfabete che si sono ritrovati ad un certo punto ad essere cittadini di uno Stato che minimamente non sentono loro e che minimamente non sanno nemmeno cosa sia, ma come non sanno cosa sia praticamente niente di ciò che non riguarda il mulino. E questa è un po' la storia dei nostri avi, perché la maggior parte degli italiani dell'Ottocento erano questi, chiaramente. E vi dicevo che è la storia un po' dei vinti, perché la famiglia Scacerni è tutto tranne che è fortunata, sono poveri, molti di loro si ammaleranno, molti di loro moriranno in povertà, moriranno dalla fame, moriranno a causa delle malattie, e sono un po' i vinti, mi ha ricordato tantissimo Verga da questo punto di vista. Sono i vinti, ma sono uomini e donne estremamente buoni, che sono dotati di valori, i veri valori sui quali si è fondata poi l'Italia, e grazie ai quali è nata poi l'Italia, e il popolo italiano. Quindi uomini di fatica, uomini e donne di fatica, non istruiti, ma che nonostante questo portavano avanti determinati valori morali, etici, ai quali dovremo guardare forse un pochino noi al giorno d'oggi. E vi dicevo, la parola viene data appunto ai vinti, agli sfortunati, c'è un grande senso di disperazione che alleggia lungo tutto i romanzi, perché vi dicevo, è una trilogia, anche se in formato unico ormai, un grande senso di disperazione, di sofferenza, di dolore, noi siamo vicini, ci sentiamo profondamente vicini ai mulinari, che non riescono a sbarcare il lunario, i cui figli muoiono letteralmente di fame sul mulino, e nonostante questa sensazione di grande dolore, di grande sofferenza, e di grande ingiustizia sociale, che ancora esiste, anche se declinata in maniera diversa, magari non nel nostro paese, magari in altri paesi, quindi dovremo guardare bene a questi insegnamenti che ci dà anche questo romanzo, per poi declinarli verso gli altri. Vi dicevo, nonostante questa sofferenza, questo dolore, in realtà poi questi vinti hanno sempre una speranza, è grandissimo il messaggio di speranza che si sente in tutta la trilogia, nonostante la sofferenza, nonostante il dolore, nonostante tutto, la speranza non muore mai, e i protagonisti, questi vinti, questi uomini di fatica, questi uomini e donne di fatica, sono persone che in realtà sono estremamente buoni, i cui valori morali vanno al di là della povertà e delle condizioni aberrandi in cui vivono, e che rimangono vivi, nonostante loro muoiano. Questo è un messaggio grandioso, che soltanto romanzi di grandissimo stampo sono riusciti a darmi, sono riusciti a comunicarvi. Dicendo così, forse potrei darvi un'idea del Mulino del Po, come qualcosa di noioso, pesante, oddio me lo hai paragonato ai miserabili, oddio romanzo di più di mille pagine, che tratta tematiche così diverse fra di loro e anche così pesanti. Guardate, il Mulino del Po è tutto tranne che pesante, nonostante sia scritto negli anni 40. lo stile di scrittura è veramente, per quanto ovviamente di un certo tipo, perché parliamo comunque di un'epopea, di una saga, di uno stile che si avvicina quasi all'ottocentesco, è uno stile molto lineare, nonostante abbia una certa importanza, chiaramente, quindi non è uno stile narrativo contemporaneo, questo assolutamente no, ci sono parole, il lessico, il lessico ormai desueto, ormai che non si usa più, però è tutto molto chiaro, molto lineare, vi dicevo. E su questo ci tengo a ribadirvelo, perché vorrei spronare tutti a leggere almeno una volta nella vita questo romanzo, proprio perché è di una grandiosità e noi in quanto italiani, aver dimenticato in qualche senso questo romanzo che ci ha formato in quanto tali, è quasi un crimine per l'umanità. Questo vuole essere un favore che voi dovreste fare verso voi stesse e dire sì, magari non adesso, perché comunque è una lettura bella e impegnativa, ma il mulino del po' è una lettura che dovrò fare prima o poi, così come un po' tutti dovrebbero leggere una volta nella vita Anna Karenna, Guerra e Pace, scrivetevi che una volta nella vita, nel momento giusto, dovete leggervi il mulino del po', perché è qualcosa che appartiene alla nostra cultura e che dovrebbe essere assolutamente rivalutato, perché ingiustamente è stato svalutato per troppi anni. È interessante notare anche che Baccheli l'ha scritto in un periodo storico molto particolare, fra il 38 e il 40, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, e non è un caso che in un momento storico così fragile, così delicato, così difficile, Riccardo Baccheli sia andato a voler ricostruire la storia dell'Italia, del popolo italiano, del perché noi siamo italiani, del cosa voglia dire essere italiani, e del cosa voglia dire Italia, perché l'Italia è nata. Ovviamente nella sua luce e ombre, l'Italia non è solo luce, anche tanto ombre, ma questa Italia che noi tanto spesso, della quale parliamo male, che sappiamo solo svalutare, beh, in realtà dovremmo ritrovare un po' di sano, sano, attenzione, patriottismo, e il mulino del po' riesce a farlo. Immaginiamoci un Baccheli che viveva durante la Seconda Guerra Mondiale e che ha voluto ricostruire il popolo italiano. È qualcosa, secondo me, di straordinario. Scusate se ve ne parlo con tanta emozione, spero che trapelli la mia emozione, quindi non ve ne parlerò magari in modo approfondito e troppo accademico, ma vabbè, questa non è la sede, io tantomeno non ho nessun tipo di qualifica del genere. Però sono molto emozionata del parlarvene, perché devo ammettere che è una lettura straordinaria, non facevo una lettura di questo tipo, vi ripeto, per me dai miserabili, a livello di sensazioni e di emozioni. Non voglio essere troppo pesante, quindi la smetto qui di sproloquiare. Questo vuole essere soltanto un invito a tutti voi a recuperare, e se non adesso, a segnarvi, a ricordarvi questo titolo, perché troppo ingiustamente è stato dimenticato. Quindi il mulino del po', scrivetevelo, appuntatevelo, qualcosa da leggere, mettetelo nella lista dei 100 libri da leggere prima di morire, perché questo ci deve assolutamente essere. Io la smetto qui, come sempre vi mando un grossissimo bacio, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!